Stefano Tenti, Ivana Ciabatti, Giuseppe Angiolini, Domenico Neri, l'indimenticato giocatore amaranto premiato peraltro dal campione del mondo Ciccio Graziani e con loro anche Francesco Macri, presidente di Estra. Questi i nomi di altrettanti personaggi illustri della terra aretina che hanno ricevuto al Teatro Petrarca di Arezzo il premio Pietro Laretino. Guidare una grande azienda, riportarla con forza anche ad Arezzo e tenerla bene ancora dal nostro territorio è una grande responsabilità che prevale sulla vanità o sull'orgoglio di rivestire una grande carica. Ci stiamo impegnando molto e anche di recente, come avete visto, si sta affermando il progetto multiutiliti, cioè andare anche su altri servizi pubblici nei quali va recuperata la sovranità amministrativa perduta a vantaggio di soggetti improbabili e inaffidabili. E' giusto che gli aretini che già pagano bollette salate in vari settori, dal gas alla luce ai rifiuti all'acqua, almeno abbiano la soddisfazione di riversare sul territorio i risultati economici di queste attività. L'obiettivo nostro sarà anche quello di calmierare queste tariffe e unificando i vari business di origine pubblica potremo meglio intervenire nel recupero di efficienza e di efficacia.